cari amici di mille un'avventura in un video precedente di questa serie sull'asset store di unity abbiamo visto il free horror game kit e sarebbe interessante se vi ricordate c'era un personaggio che trasportava una torcia elettrica che illuminava il buio sarebbe interessante aggiungere a quel personaggio un'arma per rendere la cosa ancora più interessante un una scena horror con un personaggio che esplora l'oscurità almeno armato e allora abbiamo trovato questo easy weapon qualcosa che avete visto prima sull'asset store di unity che presenta tutta una serie di armi c'è questa pistola e poi c'è questo m4 questo fucile mitragliatore e ci sono tante altre armi e vedete quanto sia completo perché c'è la fiammata dell'esplosione ci sono i bossoli che saltano ci sono vari tipi di armi tra cui anche questo fucile a pompa ci sono i segni dei proiettili sui vari bersagli che vengono colpiti c'è anche questa questa pistola laser perciò è molto completo come insieme di armi avevamo già visto un set simile preso da fps constructor però questo sembra ancora più completo e più compatibile con le ultime versioni di unity e oltre ad essere effettivamente molto efficace sia dal punto di vista grafico che delle animazioni ci sono anche questi missili missili teleguidati che raggiungono i bersagli e li colpiscono davvero un set completo con tutto ciò che serve per realizzare un gioco fps un first person shooter che potrebbe appunto essere combinato con quell'altro asset quello horror con la torcia elettrica ovviamente dicevo ci sono tanti set come questo qui c'è il vantaggio di avere non avere il il modello della mano perciò si può aggiungere un ci sono anche questi laser vedete quindi quanti quante armi ci sono anche questi missili non teleguidati ma lanciamissili vero e proprio ecco dicevo c'è il vantaggio di non avere il modello della mano e quindi di poter inserire il modello che si preferisce magari anche compatibile con il modello della mano che sostiene la torcia elettrica il lanciabombe un po scarso la lanciabombe un po troppo vicino comunque ci sono tutti questi modelli e animazioni già predisposte qui sto cercando di vedere se si vedono i bossoli sul terreno e si vedono in effetti perciò davvero molto completo ora che cosa facciamo proviamo aggiungere il modello della mano preso dal free horror game kit la mano è questa vedete che c'è la torcia elettrica eliminiamo la torcia poi faremo in modo che la mano da sinistra diventi destra e possa impugnare la pistola per avere proprio sulla schermata la torcia la mano con la torcia elettrica e la mano con la pistola e poi cercheremo di inserire il tutto nella nello scenario con con tutto il buio e la torcia elettrica che illumina gli oggetti e l'ambiente circostante qui stiamo cercando di posizionare la mano nel migliore dei modi cercando sia di ridurre le sue dimensioni che di posizionarla correttamente ed ecco più o meno qui quello che si ottiene c'è lo sparo c'è il modello della mano che si potrebbe anche perfezionare un po perché è davvero a basso numero di poligoni e ora aggiungiamo oltre alla pistola anche la torcia elettrica e vediamo l'effetto che fa tutto quanto assieme abbiamo posizionato i due modelli e ora eccolo avanziamo leggermente in modo che si trovi più o meno nella posizione della pistola e ora vediamo l'effetto che fa tutto quanto assieme ecco abbiamo collocato il modello nella posizione giusta ed ecco che la torcia elettrica e la pistola in effetti sono nella posizione giusta e anche se spostiamo il nostro modello e lo facciamo avanzare quello che si ottiene è il movimento realistico di pistola e ebbe qui chiaramente su queste armi non abbiamo ancora collocato il modello della mano però è un lavoro che si può fare e chiaramente in una situazione un po più buia anche il basso numero di poligoni può essere accettabile ecco quindi che stiamo provando le varie armi e non resta che trasportare tutto nell'ambiente originale del free horror game kit per vedere se sia le esplosioni che la torcia elettrica riescono a illuminare la scena come ci aspettiamo che debba succedere bene non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione spero che questa diciamo questo integrare diversi assets presi dall'asset store di unity vi interessi e quindi cercherò poi di integrare altri asset per realizzare in qualche modo un gioco completo bene non mi resta che ringraziarvi e ci rivedremo ci risentiremo in un prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti